Siamo quasi alle 2 del mattino, si entra a Palazzo Vermexo, stavolta con una diversa funzione, più importante. Sì, i siracusani si sono espressi con chiarezza a favore della legalità, della trasparenza, a favore della voglia di dare fiducia a una città straordinaria, una città che ha 2750 anni di vita, un popolo che dimostra di scegliere con fiducia verso un cammino certamente complicato, certamente difficile, ma che affronteremo con la cittadinanza, con la Giunta, con tutto il Consiglio Comunale, rivolgendosi soprattutto dall'inizio a tutti coloro che hanno scelto di non votare. Lei credeva di ribaltare questo risultato, il risultato del primo torneo? Io ho cominciato a cogliere in città, avendo questo strumento potentissimo, straordinario che è la bicicletta, ho cominciato a sentire davvero l'entusiasmo che contagiava tutti i cittadini siracusani, persone che io chiaramente non conoscevo, ho sentito proprio addosso queste secchiate di emozioni che mi giungevano dalle persone, dalle persone comuni, persone che incrociandomi per strada lasciavano le loro attività per venirmi incontro, per conoscermi. Ho capito che il nostro progetto, perché come ho detto prima in un discorso di ringraziamento al gruppo, le tantissime persone che mi hanno raggiunto dove abbiamo fatto lo spoglio, non è il risultato di una persona, ma è il risultato di un gruppo, di un gruppo compatto che è andato crescendo un po' come il video che abbiamo lanciato. Che cosa tende a dire al suo competitore, al suo avversario reale in questo momento? Intanto vi faccio i complimenti per la campagna elettorale che ha svolto, credo che sarà il caso, che sia il caso di incontrarsi al più presto per valutare insieme gli strumenti di comunicazione di cui questa città ha bisogno, di comunicazione tra forze che in questa città sono chiaramente significative e importanti perché questa città ha bisogno di ricuscire uno strappo importante, quindi io l'ho detto già in campagna elettorale, mi rivolgevo alla parte sana della nostra città, la città che vuole impegnarsi per il benessere, per migliorare la qualità di vita e questo si fa senza contrapposizioni, senza steccati ideologici, smettendo di farsi la guerra ma ripartendo dai valori fondamentali che sono quelli in cui ho sempre creduto e non ho smesso di credere. Innanzitutto la legalità e la trasparenza. Bicicletta, provo sui bicicletta e succede a pedalare, su quale salite? Sulle salite della vita della nostra città, sulle salite ma anche sulle discese, la nostra è una città che ha certamente tantissimi problemi da affrontare, tantissime questioni da risolvere, impiegheremo la nostra energia, la nostra competenza, la nostra voglia ma soprattutto cercheremo di farlo con tutti i nostri concittadini, quindi l'idea è il simbolo di un sindaco che sta tra la gente è quella che continuerà ad animare e ispirare i prossimi cinque anni se Dio lo vorrà.